Che effetto ti fa vedere due uomini con due donne che si baciano? Questa è una cosa dell'amore, insomma, è una accella certa e per me non solo effetti, deve essere un amore. Ti sei mai sentito discriminato? Perché? Sì, specialmente sono diversi a colori rispetto ad altri per questa e anche motivo mio pensiero, perché, come sembra, io mi penso molto bene, è un romanzo per poter avere il loro delitto, e quando hai avuto bisogno di guardare questa cosa, ovviamente non è possibile. Qual è perché il ruolo dell'uomo e della donna nella famiglia e nella società di oggi? Guarda, devo essere uguale, pari, come diceva Juan, per bambini, come penso io. Io voglio il film e i perfili, è proprio importante come me e il mio papà. Devo essere tutti due uguali, pari. Sfitterebbe un profogo a casa sua? Certo, sono pronto sempre. Vedi un uomo pensato che picca una donna, che fai? Vado subito, mi piace tanto. E poi, con qualsiasi momento non può essere questo. E se si può proprio chiare un ruolo a vuoto, insomma, vado subito per pari. Hai mai fatto beneficenza di un senza tetto? Ciao! Ciao!